La casa degli orrori di Notting Hill, il crimine per la giornata di oggi, 24 marzo, è un multicrimine in realtà, il vicino di casa di questa casa degli orrori a Notting Hill aveva sentito degli odori provenire da questa casa e era riuscito a trovare un piccolo stanzino dietro una controparete, una parete costruita successivamente alla costruzione della casa e aveva trovato una porta e dietro questa porta, guardando dallo spioncino, aveva trovato quello che appariva essere un corpo adagiato su una sedia, una schiena, evidentemente non si trattava di un corpo vivo. Entrato all'interno dello stanzino trovò non soltanto quel corpo, un corpo nudo arrossato e con un foulard al collo, ma ne trovò un altro e ancora un altro e ancora un altro. Il vicino di casa si chiamava Beresford Brown e si è recato in questa casa dopo aver sentito questi strani odori, ma quella casa non celava semplicemente i corpi all'interno di questo stanzino ricavato dietro una parete fittizia, ma una volta richiamata la polizia vennero scoperti anche altri cadaveri sotto le assi del pavimento sconnesse e addirittura altri due cadaveri seppelliti in giardino. La casa degli orrori di Notting Hill era stata la casa in cui abitava John Reginald Halliday Christie, di anni 55, che fu poi Reo Confesso, ex poliziotto di Scott Mayard, che aveva ucciso nel corso di dieci anni, dal 43 al 1953, una serie di donne, tutte per futili motivi, tutte per accessi della psicosi sessuale. il ritrovamento nel 1953 riguardò principalmente i corpi all'interno dello stanzino, che erano quello di Ruth Fuerst e Muriel Eady, di anni 32, assieme alla moglie dello stesso John Reginald Halliday Christie, Ethel Christie e Rita Nelson, di anni 25, prostituta quest'ultima, e le altri incontri fortuiti, compreso quello della Eady che aveva cercato di prendere in affitto la casa di Halliday Christie, lui sostanzialmente ha aggredito queste donne nella maggior parte dei casi, fin tanto che la moglie era in vita, per non fare scoprire le relazioni fugaci che aveva avuto con le donne stesse e poi aveva ucciso la moglie in un accesso di violenza non giustificato e non spiegato in nessuna maniera, così come poi uccise anche Hectorina McLennan insieme a Rita Nelson e altre due prostitute non riconosciute, seppellite nel terreno della sua casa. Le uccisioni avvennero in maniera differente, vennero avvelenate con il modossido di carbonio piuttosto che strangolate con delle corde o delle calze e vennero conservate a tutti gli effetti all'interno di questo piccolo sgabuzzino all'interno della casa o sotto le assi o nel terreno. Il reo confesso, preso da una gravissima psicosi sessuale, John Reginald Holiday Christie, venne condannato a morte e impiccato nello stesso anno, in ottobre del 1953. È uno dei casi più di crimine seriale più abbondante e particolare perché ovviamente riguarda un ex aderente, un ex componente della polizia di Scott Mayard per più di dieci anni. Insomma, un caso decisamente all'onore delle cronache, questo del casa degli orrori di Notting Hill e con oggi abbiamo, insomma, toccato veramente una pillola di crimine decisamente abbondante. Ci vediamo domani, come sempre, con un crimine al giorno alla botteguccia dei sigilli con il Teo Crack Apart.